Disastro annunciato perché sono ormai anni che ogni qualvolta se ne presenta l'occasione che la gestione economica e finanziaria di questo ente è totalmente fallimentare. Ogni anno assistiamo in sede non tanto di rendicontazione quanto di formazione del bilancio di previsione ad ipotesi di miglioramento che puntualmente vengono poi smentite quando il Comune va a fare il rendiconto. Quest'anno il giudizio dei revisori a nostro avviso è particolarmente grave, è particolarmente duro perché addirittura raccomandano al Comune di operare in gestione provvisoria, ovvero a limitare tutta quanta l'attività si potrebbe dire all'ordinaria amministrazione ma sarebbe scorretto anche utilizzare questo termine. Il Comune dovrà semplicemente limitarsi a pagare le obbligazioni che ha già assunto, non ne potrà assumere di nuove se non quelle strettamente necessarie a non causare danni erariali all'ente dovrà limitarsi a pagare il personale, gli stipendi al personale dipendente e assolutamente non potrà quindi dare seguito a tutte quante le linee programmatiche che appunto il sindaco ha presentato alla cittadinanza nel momento in cui è diventato nuovamente sindaco. Cercheremo nei prossimi giorni tra interrogazioni e emozioni di metterli un po' alle strette e spalle al muro affinché appunto gli uffici comunali vengano al più presto riorganizzati perché di questo passo ovviamente non si può andare avanti, non sarà nemmeno più possibile garantire i servizi minimi, penso all'istruzione, penso per esempio al servizio di asili nido stamane proprio abbiamo fatto una riunione di commissioni di vigilanza in cui abbiamo esaminato la gestione anche in questo caso ai limiti della legalità a nostro avviso degli asili nido ma questi saranno servizi che lentamente purtroppo andranno a sparire se continuerà questo modo di gestire la cosa pubblica da parte di questa giunta.